salve a tutti a luglio a tauria nova che è la capitale italiana del libro infatti il mio spettacolo è proprio tratto da un libro il talento di essere tutti e nessuno vi posso garantire che quella sera scateneremo l'inferno ci vediamo a luglio a tauria nova buona estate a tutti grazie